Musica Avviati definitivamente i lavori di ristrutturazione e manutenzione alla materna di Santa Lucia. Dopo due anni di preoccupazioni e disagi, a partire dal prossimo ottobre i bambini dell'asilo potranno finalmente ritornare a occupare i banchi del plesso di via Giuseppe Vitale. Una notizia che arriva direttamente dall'ultima riunione tenutasi giovedì pomeriggio a Palazzo di Città tra i responsabili delle procedure e i rappresentanti dei genitori. Nel corso dell'incontro si è definito il necessario da farsi a pochi giorni dal ritorno a scuola. A quanto pare ci sono i presupposti affinché i lavori che interessano i locali interni siano ultimati al massimo entro la metà di ottobre. Nel frattempo, e fino alla consegna, i bambini verranno ospitati, come già successo negli scorsi anni, presso l'asilo della frazione di Sant'Anna e la succursale locale della scuola media Alfonso Balzico. Più tempo invece occorrerà per portare a termine i lavori esterni della struttura, che comunque proseguiranno durante lo svolgimento delle attività scolastiche, in modo da evitare ulteriori slittamenti. Priorità sarà data la rimozione degli ultimi prefabbricati che ancora insistono nell'area circostante. Le due famiglie che ancora vi risiedevano hanno ricevuto l'assegnazione dell'asloggio comunale e sarà quindi a breve possibile intervenire per la bonifica dei materiali in amianto. Solo qualche altro mese di pazienza dunque per i piccoli e le loro famiglie, che vedranno presto il ritorno della situazione alla normalità. Si avviano alla conclusione le Corti dell'Arte a Cava dei Tirreni, 28esima edizione di questo festival di musica da camera organizzata dall'Accademia Musicale Jacopo Napoli. Ieri sera, 28 agosto, è stata la serata dedicata a Wolfgang Amadeus Mozart presso la corte di Palazzo Gagliardi in Corso Umberto I. Domani sera invece, domenica 30 agosto, music happening al Centro Storico dal titolo Allegro Andante. Dalle 20.30 alle 23.30 i musicisti dell'Accademia Jacopo Napoli delizieranno i visitatori con esecuzioni contemporanee di musica classica in più corti del Corso Umberto I. Martedì 1 settembre si terrà invece l'evento che chiuderà la rassegna. Al Social Tennis Club di Via Garzia andrà in scena l'Elisir d'Amore, melodramma giocoso in due atti composto da Gaetano Donizzetti ed eseguito dai solisti del Laboratorio Lirico della Jacopo Napoli, accompagnati dall'orchestra del Conservatorio Martucci di Salerno sotto la direzione di Massimiliano Carlini. La storia è quella di un amore non corrisposto tra un giovane e una capricciosa fanciulla e di un ciarlatano che vende all'innamorato un finto rimedio miracoloso. Il melodramma fu rappresentato per la prima volta nel 1832 al Teatro della Canobbiana di Milano e si appresta ad essere la degna chiusura di questa 28esima edizione delle Corti dell'Arte. Vivo la sconfitta come un KO di campionato, così Emilio Longo al termine dei 90 minuti che hanno visto la Cavese sconfitta in amichevole dal Melfi. Nonostante tutto però la squadra per il tecnico è completa e combattiva. Bisogna solo sfruttare al meglio il tempo a disposizione prima dell'inizio del campionato. Avremmo potuto creare qualcosa in più, alcuni meccanismi vanno ancora rodati. Diciamo che per la mole di lavoro che abbiamo fatto avremmo secondo me potuto creare qualcosa sicuramente in più. Però per la prima volta ho visto una squadra che ha combattuto su tutte le palle, non ha rischiato nulla sulle palle inattive, dove anche lì i meccanismi sono importanti. Difendere a zona non è da questa categoria, infatti l'ha fatto il Melfi con altri tipi di calciatori. Quindi che cosa voglio dire, ho visto una squadra che comunque da quel punto di vista e anche lì c'era bisogno di una crescita, è cresciuta sotto l'aspetto dell'agonismo, della motivazione, sulla conquista della palla. Non abbiamo cercato solo di essere belli ma anche concreti. Per questo mi dispiace, vivo la sconfitta come una sconfitta di campionato perché secondo me oggi il lavoro fatto e il lavoro svolto avrebbe potuto produrre già un risultato positivo. Per il resto credo che la squadra è completa, deve soltanto migliorare, deve lavorare, ci deve essere cultura del lavoro, cultura che questa squadra ha assolutamente. Oggi è dimostrato di essere anche capabile, se nelle ultime uscite aveva dimostrato un po' di rappresentanza. Secondo me oggi la squadra è stata anche cattiva al punto giusto, un po' ingenua perché concedere al 45esimo del secondo tempo un calcio di rigore lascia comunque un po' di rammarico, però da questo punto di vista io credo che questa tappa è comunque un piccolo scalino che la squadra fa per migliorarsi. Grazie a tutti.